Questo spedirà l'amministrazione è Vincenzo Curia. Bravo! Non lo sapevo. Bravo, non lo sapevo. 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 Dite l'opera. Ah sì, sì, devo fare l'opera. Pringetevi un po'. Datevi la mano, insomma. Bellissimo, ok. Descrivete. Descrivete, Fabi, descrivi un po' l'opera di Vincenzo. Perché c'è un particolare che lo sapeva sostanzialmente solo l'autore e il giudice. I giudici non potevano sapere. Ma cos'era, un cilindro? Che cos'era? Un pistone. Un pistone. Cioè quel fiore che avete visto. E' un po' l'opera di Vincenzo. La collaborazione tra natura e tecnologia e la carità. Bellissimo. Grazie, grazie. Va bene. Grazie.